Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che riordina province e città metropolitana. Il Piemonte è stato ridisegnato su quattro aree vaste. Tornano alla Regione competenze importanti come agricoltura e formazione professionale. Alzare la guardia contro la diffusione tra i minori di slot machine e gioco d'azzardo lo chiede un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale che impegna la Giunta a mettere in campo iniziative per disincentivare la presenza delle macchinette negli esercizi commerciali. Promosso dal Presidente dell'Assemblea Mauro Laus si è insediato a Palazzo Lascaris il Consiglio degli Stati Generali dello Sport uno spazio di approfondimento tecnico e scientifico per sostenere i valori della pratica sportiva. Per la prima volta in Italia l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali con il Comitato Diritti Umani ha presentato una ricerca sullo sfruttamento lavorativo a danno di chi si sposta all'interno dell'Unione Europea o di chi vi fa ingresso. Si è aperta con i saluti del Presidente dell'Assemblea regionale Mauro Laus la 32esima Assemblea annuale dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, a Torino, dal 28 al 30 ottobre. Il Consiglio ha partecipato all'appuntamento con un proprio stand istituzionale. I Presidenti del Consiglio regionale della Giunta Mauro Laus e Sergio Chiamparino hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i fratelli Martin e Bernard de Matteis. Ai due atleti sono state consegnate le targhe con la medaglia della Sacra di San Michele per la loro attività sportiva. Un film con le testimonianze di volontari e operatori carcerari detenuti e autorevoli personaggi si intitola Recidiva Zero, fa riflettere sulla rieducazione della popolazione carceraria ed è stato proiettato in anteprima nazionale a Palazzo Lascaris.